Ritrovamenti nelle cassette della posta, nei sottoscala o all'interno dei vani ascensori, ma anche negli altarini accanto a statue sacre, a spregio non solo della vita altrui per chi vende morte, ma anche del credo e della religione. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono impegnati quotidianamente nei controlli antidroga nella zona nord di Napoli e spesso perquisiscono luoghi e zone che possono essere verosimilmente utilizzati come nascondigli. Gli ultimi obiettivi in ordine cronologico sono le aree popolari di Brusciano e di Castello, passate a setaccio strade e piazze senza trascurare le aree comuni come le aiuole o le cantine, passando per le lastre di marmo che corpono le scale condominiali fungendo da avere il proprio cassetto. I carabinieri della locale compagnia insieme ai militari del reggimento Campania sono tornati nel rione popolare La Cisternina e lì hanno rinvenuto e sequestrato numerose dosi di diverse specialità di droga, un caricatore berretta 9x21 e bilancini di precisione. Anche a Brusciano nella 219 sequeste di droga con numerose dosi già pronte per la vendita al dettaglio. I carabinieri hanno rovistato dappertutto e la droga era nelle zone comuni e quindi a carico di ignoti, ma i controlli continueranno anche nei prossimi giorni.